Manifestazioni nelle maggiori piazze italiane oggi per lo sciopero di oltre 100.000 lavoratori dei servizi ambientali divisi tra pubblico e privato per rivendicare il rinnovo di un contratto scaduto da oltre due anni. I sindacati chiedono un contratto nazionale unico e di filiera di rafforzamento delle relazioni industriali, condizioni di lavoro per tutelare la salute degli operatori e ancora un accordo economico che tenga conto delle varie indennità. A 27 mesi dalla scadenza del contratto il sindacato fa sapere che la mobilitazione andrà avanti fino al raggiungimento di un esito positivo.